Replica rapidissima e sui singoli punti che sono stati posti. La linea della replica è che condivido ciò che ha detto Maurizio Martina. Io ho fiducia nella nostra gente. Noi non siamo i soli a rappresentare il Partito Democratico. Ci sono centinaia di migliaia di iscritti che rappresentano il Partito Democratico, che possono essere più o meno apprezzati, più o meno coinvolti, ma hanno una grande chance di coinvolgimento a partire dal Congresso. Ci sono milioni di persone che hanno partecipato alle consultazioni primarie in passato e noi ci auguriamo che siano altrettanti nelle prossime, quando esse siano. E soprattutto io penso che dopo due mesi in cui tutte le volte che abbiamo avanzato delle proposte, il giorno dopo ci è stato detto di cambiare posizione, credo che a un certo punto un punto vada messo. Non io, non noi, ma l'Assemblea che è sovrana. In questo senso mi piace l'idea, ho visto che sono state raccolte alcune firme per un documento perché l'Assemblea si svolga il prima possibile, e l'Assemblea che ha la sovranità statutaria per decidere sia i tempi del congresso che le modalità possa esprimersi in pieno rispetto delle regole statutarie. Amici e compagni, se siamo in una fase in cui per due mesi c'è una disponibilità totale al punto da cambiare linea una volta alla settimana, perché diciamocelo, abbiamo cambiato linea una volta alla settimana per venire incontro alle esigenze di tutti, e tutte le volte viene spostata, Andrea, te lo dico con affetto, la conferenza programmatica è quella di quattro puntate fa, poi siamo passati alle primarie, alla contendibilità, al momento di confronto, al congresso, al congresso in tempi anticipati, al congresso regolare. E allora io credo che l'Assemblea debba decidere con molta chiarezza che il congresso si faccia nei tempi che l'Assemblea deciderà. Lodo Piero Fassino, che di congressi se ne intende. Piero ha spiegato molto chiaramente su questo. Dunque non sono io che decido i tempi del congresso, sarà l'Assemblea come prevede lo statuto di questo partito, perché noi rispettiamo le regole in un momento di difficoltà a maggior ragione. Secondo punto, Michele Emiliano pone una serie di elementi, faccio la faccetta carina, pone una serie di elementi specifici, ne rispondo soltanto ad alcuni, quelli che credo possano riguardare il dibattito di tutti. In primis, si può fare un congresso con la legge elettorale ancora in itinere? Beh, l'altra volta, Michele lo ricorderà, perché io partì da Bari, non soltanto c'era una legge elettorale in itinere, ma c'era una sentenza della Corte Costituzionale pendente e uno di noi in sciopero della fame. E noi facemmo un congresso molto ampio, molto serio, molto bello, molto discusso, nel senso di molto appassionato, fu uno dei meno discussi dal punto di vista invece delle regole e quindi la legge elettorale è evidente che non è un elemento stativo al congresso per nessun articolo né dello statuto né del buonsenso della politica. Invece, rispetto alla questione del referendum, abbiamo opinioni diverse, probabilmente sono stati fatti degli errori, ragione Michele, e probabilmente anche noi quando abbiamo fatto il tentativo di bloccarne 5 su 6, già che c'eravamo potevamo bloccarne 6 su 6. Dall'altro lato è vero che non era quel argomento che invece è stato utilizzato, ma ormai appartiene al passato. Però Michele, non ti ho mai offeso quella sera e forse mi confondi, se vuoi polemizzare con qualcuno, dove è andato Ernesto, che è molto più bello di me, che ti fece un ciaone di cui si è sentita l'eco fino ai mesi appena trascorsi, mai e poi mai mi sono permesso di dire una parola contro, in particolar modo in una dinamica che per noi era difficilissima da spiegare, perché c'era un voto importante. Mi ha fatto male questo sì Michele, quando tu hai definito il governo assassino, quando parlavamo di Ilva e ne abbiamo parlato tante volte, non era un tuo sosia quello che a Taranto insieme a me, a Claudio De Vincenti, ha affrontato per tre volte anche le critiche e una volta con il toffare che io trovo molto simpatico, ma è anche lasciato nella stanza chiusa con la dottoressa dei pediatri, con la presidente dei pediatri, quindi evidentemente c'è un po' di confusione sul racconto del passato. Sì, Claudio De Vincenti non l'ha presa benissimo, è una persona molto brava, ogni tanto si arrabbia, ma sostenere che non si sia mai parlato d'Ilva quando qualcuno ci ha fatto il viottolo a Taranto e non soltanto Claudio, ma anche Graziano in precedenza, trovo che sia un po' ingiusto. Il tema dell'Ilva è un tema che sarà interessante approfondire e affrontare, lo faremo sicuramente anche in futuro. Elezioni, quando? Lo dico a Pierluigi. Io non ne sto fuori Pierluigi in modo tattico, ne sto fuori per convinzione. Ti dico come la penso, poi naturalmente ciascuno ha la sua opinione. A me pare che naturalmente noi abbiamo preso una decisione in direzione, a chi mi dice il segretario, abbiamo preso una decisione in direzione e poi abbiamo deciso di fare il congresso. Se qualcuno vorrà utilizzare il congresso per dare la linea sulle elezioni, lo faccia. Io credo che sarebbe irrispettoso perché penso che la decisione su quando si va a votare la deve prendere il Presidente del Consiglio, i ministri e i parlamentari. Mi sembra di avere un atteggiamento di una serietà e di un rigore istituzionale che è la risposta più chiara a chi cerca tutti i giorni di preoccuparsi soltanto della data delle elezioni. Che si voti a giugno, a settembre, a ottobre, a febbraio, per me è un tema che non riguarda l'essenza del Partito Democratico, riguarda le aspirazioni, le ambizioni, i desideri delle persone. Ma se da due mesi siamo fermi nella nostra discussione, possiamo davvero far credere a qualcuno fuori da casa che tutto il tema sia quando si va a votare? Possiamo davvero far credere a casa che l'unica cosa che ci anima è quando andremo a confrontarci e non cosa diremo? Io penso che sia più serio nei confronti del Governo sostenere il Governo, dare una mano al Governo, cercare di lavorare sulle grandi battaglie in Europa, assistere a quello che sta accadendo a livello di Parlamento europeo, di istituzioni europee e smetterla con l'ansia autoreferenziale di pensare soltanto a quella che è la durata della legislatura che interessa gli addetti ai lavori, quando gli italiani vogliono risposte che noi possiamo dare. E sono in prima fila per dire che il dibattito congressuale debba essere sui contenuti. Noi sabato o domenica, quando faremo l'assemblea, vedremo, arriveremo con un manifesto, con delle idee precise, ma la costruzione del programma non potrà che venire dal basso. E questo è un punto molto importante, perché se c'è stato un limite, lo avete detto, io lo riconosco, nell'azione di Governo è che talvolta si è dato l'idea di un riformismo dall'alto, non soltanto sulla scuola, ma anche sulle cose riuscite meglio. Si è dato l'idea che certe scelte le facessimo noi e che poi le spiegassimo fuori. Bene, a cosa servono gli errori? A ripartire. E allora da sabato o da domenica, quello che sarà, metteremo in campo uno strumento di coinvolgimento molto serio. Non è più tempo dei giri per l'Italia con gli shot teatrali, ma di un tavolo. Sandra ricorderà alcuni momenti del passato che sicuramente la emozionano, in cui innanzitutto ascoltare. È tempo innanzitutto di mettersi in confronto, ma senza negare che ciò che è stato fatto non appartiene a qualcun altro. Appartiene alla storia più straordinariamente impegnativa che abbiamo fatto in questi tre anni, la storia condivisa di un partito e di un Parlamento che ha fatto delle cose che sembravano in questa legislatura è impossibile. E le ha fatte, lasciatemelo dire, a testa alta, senza paura di rischiare, senza paura di mettersi in gioco. E non riguarda soltanto i diritti, riguarda anche la sfera dei doveri. Perché quando questo Paese continua a riflettere su temi come quelli che riguardano il sociale in modo diverso dal passato, io sono orgoglioso dei denari in più che abbiamo messo in questo settore e sono in prima fila a augurare al Parlamento, a incitare il Parlamento, a stimolare il Parlamento, a spronare il Parlamento, perché le tante questioni rimaste a metà siano portate a casa. Fatelo. Fatelo con lo spirito, il coraggio e l'orgoglio di chi crede nelle proposte che ha fatto. Ma allora smettiamo di stare da due mesi soltanto a discutere di questioni che fuori da qui non interessano. E su questo, per essere chiari e chiudere fino in fondo, amici e compagni, c'è un limite a tutto. Abbiamo detto di fare l'Assemblea, c'è stato detto di no. Abbiamo detto di fare l'Assemblea, c'è stato detto di no. Abbiamo detto di fare la conferenza programmatica, c'è stato detto di no. De Luca ha detto che siamo dei masochisti. Io trovo una definizione geniale, quella di chi ha detto sai chi è il sadico? Il sadico è uno gentile con i masochisti. Io non posso essere sadico in questa discussione. Io non posso pensare che la gente che sta alle feste dell'unità e che rimette in piedi e che anche quest'anno farà le feste dell'unità, ci venga a raccontare per l'ennesima volta che noi stiamo sei mesi a discutere tra di noi su che cosa? Sul niente. Allora, tutto ciò che serve per creare un clima in cui ciascuno si senta a casa sua sarà fatto. Ma quando qualcuno che sta nel Partito Democratico ha paura di confrontarsi con la propria gente, con le regole che valgono per tutti noi, con i modalità che sono state scelte la scorsa volta, non con modalità che ci inventiamo, se qualcuno ha paura del confronto lo deve dire. Io vorrei che le porte fossero aperte e spalancate e che ciascuno di noi si sentisse a casa con il sorriso sulle labbra, con l'entusiasmo di poter dare una mano, ma anche con la consapevolezza che l'ennesimo rinvio e l'ennesimo passo indietro non sarebbe capito nemmeno dai nostri. Dunque avete chiesto il congresso? Venite, andiamo a fare un bel congresso con il sorriso sulle labbra e con l'entusiasmo di chissà che da questo congresso il Partito Democratico sarà un partito ancora più democratico. Se gli altri non lo sono, se gli altri si affidano agli algoritmi, se gli altri giocano soltanto sulla cooptazione e sul capo, è un problema loro, ce ne faremo una ragione. Noi siamo il Partito Democratico e non rinunciamo alla democrazia, neanche a quella interna.